telemantova ogni giorno con voi il lunedì sera c'è piazza pallone il programma sportivo condotto da giulio giovannoni con francesca galavotti il martedì paolo gioia e i suoi ospiti vi aspettano nello studio di donkey shop per un confronto a due su vari argomenti e subito dopo andrea giangiulio e giacomo lasagna vi mostrano immagini e commenti sul calcio dilettantistico con supermatch il mercoledì tocca a medicina in linea medici ed esperti pronti a rispondere in diretta ai telespettatori sui temi della salute del benessere a seguire via roma 39 con ospite il sindaco di mantua nicola sodano intervistato dal nostro direttore monica bottura l'ultimo miglio è il talk show del giovedì sera con un parterre di ospiti che si confrontano su varie tematiche che coinvolgono il territorio mantovano e sempre il giovedì dopo il tg l'economia e la borsa merci nell'abc del giovedì il venerdì sera appuntamento con la riflessione del vescovo busti in pane spezzato e a seguire i misteri e le leggende di manto nel programma curato da nicola facchini e dalla redazione di telemantova sabato sera all'insegna della tradizione popolare con la vecia mantova e con un libro una storia la domenica sera c'è la partita del mantova e tutti i giorni lo sport mantovano all'ora di pranzo si commenta con il calcio sui maccheroni non senza aver cucinato uno dei piatti proposti dall'almanacco mantovano di luciano lui e fredonna telemantova ogni giorno con voi grazie a tutti